E anche quest'anno è terminata questa lunga carrillata di novità qui dall'IBC di Amsterdam edizione 2012, io e Matteo Liberto con questo vi salutiamo, speriamo di aver dato il nostro utile contributo al vostro lavoro e cerchiamo come sempre di presentare tutte le novità possibili, purtroppo un tempo limitato perché alla fine tutto si richiude in 4-5 giorni, tenendo presente che parliamo di oltre 1500 stand quindi la cosa non è semplice, speriamo comunque di aver soddisfatto le vostre aspettative, ci aggiorniamo per una prossima edizione, per il momento Matteo Liberto, Antonio Franco, è tutto qui da Amsterdam, alla prossima!